... Ritorna al Natale venariese. Luci, colori, musiche e animazioni di strada riportano momenti di aggregazione ed armonia fra la gente. Questa sera è stato presentato un ricco programma. Si inizierà mercoledì 5 dicembre con il Natale dei Senior e i festeggiamenti delle Nozze d'Oro. Siamo con l'assessore alla cultura ed eventi Antonella D'Aflitto. L'inaugurazione della Natale a Venaria Reale, alla quale tutta la cittadinanza è invitata, è prevista per venerdì 7 dicembre alle 18.30. Un ricco calendario anche quest'anno. Tutta la cittadinanza è invitata venerdì 7 dicembre alle ore 18.30 in piazza annunziata. Questo invito è direttamente da parte di Babbo Natale che ringraziamo di essere qui stasera con noi, di aver attraversato grandi freddi per raggiungerci a Venaria Reale. Inaugureremo in piazza annunziata venerdì, ribadisco alle 18.30, l'accensione delle luminarie. Un Natale che quest'anno vede una grandissima collaborazione e partecipazione con anche tutti i commercianti che ringrazio. Ringrazio anche oltre agli uffici cultura, comunicazione e stampa della città di Venaria Reale, ringrazio l'assessore al commercio Antonio Scarano, perché grazie al collega e a tutte le associazioni di categoria dei commercianti abbiamo potuto quest'anno creare grandi sinergie e quindi quando accenderemo le luci ci sarà una grande sorpresa anche musicale e non solo di animazione costruita insieme a tutti i commercianti della via e grazie all'associazione Venazio. Ringrazio tutte le associazioni di veneria che hanno partecipato alla manifestazione di interesse presentando tantissime iniziative in programma e consentendoci quest'anno di costruire un'offerta dove la musica sarà veramente grande protagonista. Grandi concerti in Sant'Uberto, grandi concerti intorno all'Albero di Natale in Piazza Annunziata, grandi cori dal coro gospel della Crisalide al coro degli incontrocanto altrettanto molto speciale, ai Sones, al coro Trevalli, alla banda, a tantissime proposte che ci saranno, compreso un concerto importante di musica celtica che davvero arricchiranno questo dicembre e che invito davvero tutti ad ascoltare, che saranno tutti ad ingresso gratuito. Ci sarà poi un capodanno speciale, un capodanno che sarà nuovamente al Teatro Concordia, che prevede un impianto un pochino diverso rispetto a quello che era il capodanno proposto per tanto tempo, perché volevamo che ci fosse un capodanno per adulti e bambini, quindi non solo per i grandi e i grandissimi, che vedrà una proposta con uno spettacolo, una merenda al pomeriggio e poi di nuovo la sera un grande spettacolo di circo molto molto speciale, con una pericena in piedi a buffet, con un brindisi e un panettone e poi DJ set davvero fino alle prime ore del mattino. E quindi speriamo, peraltro per i cittadini che vorranno partecipare, ci sarà la possibilità di acquistare biglietti senza i diritti di prevendita direttamente al Teatro La Concordia. Tante le animazioni per le strade, nel Borgo Storico, nel Viale Buridani e in Corso Matteotti, tantissimi gli appuntamenti ai laboratori per i bambini e non solo, e grazie ai commercianti un mercatino nei weekend e quindi tutti i sabati e le domeniche, fino ad arrivare poi a quelle che saranno le animazioni classiche per la festa della Befana il 6 gennaio. Le luminarie saranno in tantissime vie e quindi le tradizionali luci di Natale che si accenderanno venerdì vedranno illuminate tantissime strade del centro, tantissime strade anche dei borghi a lato del centro, fino ad arrivare ad Altesano per creare per strada quella che è l'atmosfera classica che cerchiamo sempre in qualche modo di vivere nelle nostre cucine e nelle nostre case con la famiglia Natale. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e quindi tutte le associazioni che hanno proposto iniziative, penso e ringrazio anche la scuola di Tromp de Chasse che proporrà con l'Accademia di Sant'Uberto altrettanto un concerto durante il periodo, ringrazio di cuore la Proloco e il presidente Claudio Macario che ancora una volta ci dà un grandissimo supporto, un grandissimo aiuto e quindi un grazie speciale altresì alla Mandria che ha confezionato un programma molto ricco di eventi e di iniziative per grandi e piccoli, un grazie grande alla Reggia di Veneria con cui con grande sinergia abbiamo costruito molte iniziative, grazie alla Fondazione Via Maestra che ha costruito con noi questo impianto di Natale, un grazie speciale alla Biblioteca e a Marco Perazzolo che ci supportano in tante iniziative. Quello che voglio ancora ricordare è che vedremo la seconda edizione di una cena di solidarietà molto speciale il 18 dicembre in Reggia per cui ringrazio di cuore i colleghi della Reggia, il Consorzio e la Regione per averci concesso nuovamente la Galleria Grande, potremo ospitare nuovamente a tavola 400 persone che potranno vivere la Reggia e insieme a un piccolo gesto di solidarietà far vivere una cena in Reggia ad altre persone che difficilmente avrebbero magari potuto viverla raccogliendo dei fondi per la parrocchia del Centro Storico e ringrazio il gruppo della Fratellanza che curerà nuovamente questa serata e quindi penso che ci siano davvero tanti momenti da vivere insieme per poter condividere quello che è lo spirito più bello del Natale e cioè la gioia di essere una grande famiglia, di essere uniti e di sapere insieme affrontare anche le difficoltà che ogni giorno ci vedono protagonisti. E passerei la parola per un augurio speciale a Babbo Natale che è qui con noi oggi. Grazie di tutto. È la prima volta che faccio sto lavoro ed mi commuovo persino a vedere tanta gente che apprezzi queste cose. È una cosa carina e spero che piaccia anche ai bambini quando sarà il momento di frequentarli, almeno penso che la scuola accetti anche questo. Comunque grazie a Claudio che mi fa fare una cosa nuova e beh comunque mi sono proprio contento e sono felice. Io vi ringrazio e buon Natale a tutti. Grazie. 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 Grazie.